Sul tavolo del Consiglio regionale è tornato d'attualità il nuovo ospedale di Pesero da realizzare a Buraglia. Ci è tornato, sollecitato dalle interrogazioni dei consiglieri del PD, Biancani e Vitri, su tempi di realizzazione che ad oggi sono ben lontani dallo scorgere un cronoprogramma. L'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, ha risposto alle interrogazioni confermando le risorse. 150 milioni di euro, di cui 105 di provenienza statale senza scadenza. Per passare alla fase operativa, Baldelli ha detto che bisognerà completare un iter avviato lo scorso 30 marzo con l'accordo con l'azienda ospedaliera Marche Nord, che ha di fatto avallato la costruzione di un nuovo ospedale a Muraglia da 372 posti, mantenendo l'autonomia funzionale dell'ospedale Santa Croce di Fano. Un iter che ora va completato sottoscrivendo un accordo di programma con il Comune di Pesaro, Asur e Marche Nord. Fortemente critica l'opposizione in consiglio, a cominciare da Andrea Biancani, secondo il quale si è perso un anno e mezzo di tempo, facendo carta straccia di un progetto che era già pronto con la precedente giunta e realizzandone un altro, che, a suo dire, difficilmente vedrà l'avvio dei lavori in questa legislatura. D'ottobre 2020 ad oggi praticamente l'unica cosa che è stata portata avanti, cioè è stato demolito il progetto precedente. Il progetto che prevedeva nella città di Pesaro un investimento di circa 240 milioni di euro, una struttura ospedaliera che aveva circa 600 posti letto e che doveva essere un'eccellenza per tutto il territorio provinciale. Oggi ci ritroviamo un anno e mezzo dove non abbiamo neppure il progetto, quindi i progetti devono ancora iniziare. L'assessore ha ribadito che i 150 milioni di euro, che sono quelli necessari per fare la nuova struttura, verranno comunque individuati, ma nel bilancio regionale non ci sono. Però quello che mi preoccupa è che, dovendo ancora fare i progetti, passeranno ancora degli anni. Sono sicuro quindi che all'interno di questo mandato legislativo, quindi nei prossimi tre anni, non saremo in grado di poter partire con i lavori. La città dopo cinque anni si ritrova che prima aveva un progetto pronto, che oggi sarebbero già iniziati i lavori, si ritrova a non avere niente.